Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi a Cars on the Road è la nuova produzione in arrivo su Disney+. In attesa dell'uscita, l'account Instagram della piattaforma di streaming, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, ha condiviso una clip ufficiale tratta dalla serie. Cars on the Road, il trailer e la clip.A distanza di oltre 15 anni dall'uscita di Cars, motori ruggenti, Saetta McQueen e Cricchetto sono pronti a vivere nuove entusiasmanti avventure. Cars on the Road è il titolo della serie che racconterà il viaggio dei due amici tra sfide e sorprese, come mostrato nel trailer ufficiale. Ora, l'account Instagram di Disney+, ha pubblicato anche una clip esclusiva con protagonisti proprio Cricchetto e Saetta McQueen. La serie, composta da nove episodi, debutterà su Disney+, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, giovedì 8 settembre. Cars, il successo del franchise.A il 2006 quando Cars, motori ruggenti debutta sul grande schermo conquistando immediatamente il favore del pubblico e della critica tanto da trionfare agli Academy Awards e nelle categorie miglior film d'animazione e miglior canzone. Il successo della pellicola ha poi dato vita a un vero e proprio franchise di respiro internazionale. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione. 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 Grazie.